La ristrutturazione che interesserà lo storico albergo di Campo Imperatore che ospitò la prigionia di Benito Mussolini lo trasformerà in un resort di lusso che però non cancellerà la memoria storica della struttura. Entro la metà di settembre i lavori appaltati a due ditti aquilano dovrebbero partire per terminare in un anno e mezzo, lavori che costeranno 3 milioni e 800 mila euro. Il progetto è innovativo ed è stato fatto dal comune, la facciata esterna non subirà stravolgimenti a parte le coperture, il restyling riguarderà soprattutto gli interni, nel piano interrato sarà realizzata una spa con sauna e bagno turco, saranno ampliati i locali che ospiteranno la piscina, saranno rifunzionalizzati gli spazi che ospitano le stanze, in totale 80 posti letto. La camera 220 che ospitò il Duce manterrà il suo assetto, saranno ristorati mosaici ed elementi di pregio, anche i pavimenti della hall, sarà recuperata la sala lettura interamente, riaperte le antiche finestre murate, ci sarà ovviamente anche un bar, come del resto spazi per noleggio e attrezzature sci, per forze dell'ordine, protezione civile e soccorso alpino. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore non viene cambiato assolutamente, è vincolato dalla sovrintendenza e poi c'è il fatto della stanza dove è stato Mussolini che quindi è un riferimento storico importante e viene mantenuto. So che nel bando è stato messo, è stata separata, anzi era una delle proposte per le imprese, quello di iniziare i lavori sulla parte che serve per l'inverno, quindi pronto soccorso, polizia, scuola sci, noleggio, che deve essere pronta per l'inverno altrimenti non potremmo aprire e poi fare un bypass per quanto riguarda gli impianti acqua e luce. E poi si inizierà, penso in primavera, il grosso, però diciamo la parte interna che riguarda l'utilizzo invernale verrà fatto subito, entro due mesi. Purtroppo le pratiche burocratiche hanno i tempi che necessitano e finalmente siamo riusciti, devo dire il Comune ci ha messo una buona disponibilità, ha messo tutte le forze per poterlo realizzare e siamo riusciti finalmente ad arrivare, speriamo bene. Grazie a tutti.